Ancora una volta mi vedo costretto a coinvolgere il Ministero della Salute nel tentativo, sino ad oggi risultato vano, di sollecitare, smuovere, obbligare le istituzioni locali a prevenire e risolvere il fenomeno del randagismo divenuto nel corso degli anni un vero e proprio business per la criminalità organizzata e non solo. Durante il periodo estivo sono innumerevoli le segnalazioni e le richieste di intervento che le associazioni animaliste ricevono, cuccioli abbandonati, animali incidentati, cani smarriti o più semplicemente cani vaganti per le vie del centro. I turisti che decidono di trascorrere le ferie in Calabria, scrive Giuseppe Trocino, non essendo abituati alla presenza di animali vaganti per le vie dei centri cittadini fiduciosi, sollecitano prontamente l'intervento degli enti locali. Ben presto si accorgono che qualcosa non funziona e inorriditi da cotanta indifferenza istituzionale si rivolgono ai volontari del posto, impossibile per associazioni locali farsi carico di un problema più grande di loro, rincorrere le quotidiane emergenze nel snervante e finisce per esaurire le forze fisiche ed economiche di chi dimostra sul campo e concretamente di avere una sensibilità superiore a quella che contraddistingue i diversi rappresentanti istituzionali. La Calabria, come del resto anche le altre regioni meridionali, hanno dimostrato la loro incapacità organizzativa e programmatica. Le recenti inchieste giudisiarie hanno in parte fatto luce anche sulla corruzione che dilaga negli uffici pubblici e sulla spartizione del territorio operata dai gestori dei canili privati, strutture autorizzate dalle aziende sanitarie, a detenere oltre 250 cani dove i controlli da parte dei servizi veterinari sono inesistenti al pari dell'assistenza sanitaria che i privati dovrebbero garantire. Cani costretti sistematicamente a far le valice per essere trasferiti da un lager all'altro. In tutto questo i servizi veterinari, fatte le dovute eccezioni, latitano, dimostrando che lo stereotipo del dipendente pubblico italiano, e non è una leggenda metropolitana, né un mito da sfatare, una illegalità disarmante ma inaccettabile. Cara dottoressa Grillo, caro ministro, scrive il semplice volontario Giuseppe Trocino, venga in Calabria da turista prima che da ministro e si renda conto personalmente che gli animali muoiono nell'indifferenza, mentre i delinquenti, quelli veri, indossano impunemente fasce tricolori e camici bianchi.